Dal sogno Serie D alle dimissioni della società, il passo in casa Manduria è stato breve. Inizio di 2024 da incubo per i biancoverdi, le due sconfitte consecutive maturate contro Gino Sennovoli hanno generato la contestazione di una parte della tifoseria dinamica che ha indotto il presidente Vinci e l'intero staff dirigenziale a rassegnare le dimissioni con effetto immediato. In realtà una minima percentuale che il padrone sapico ci ripensi esiste, ma la situazione potrebbe anche rimanere identica con effetti deleteri. Si discute perfino della possibilità che il Manduria non si presenti in campo domenica 21 gennaio a Galatina per la disputa dell'andata della finale di Coppa Italia contro il Molfetta, mossa che sancirebbe una crepa definitiva tra club e tifoseria. Tanti i messaggi di solidarietà nei confronti di Vinci ed innumerevoli le richieste di far sì che il padrone possa tornare sui suoi passi, ma di certo il momento non è dei più semplici. Urgento ora più 4 ma saprà potenzialmente secondo in coapitazione con i bianco-verdi. Il futuro è tutto da scrivere, ma per il Manduria l'entusiasmo per l'attesa verso la fine di Coppa è svanito quasi del tutto.